La Banca Popolare del Cassinate è al primo posto tra le banche popolari italiane per indice di solidità Texas Ratio e quanto emerge da un'analisi sullo stato di salute delle 19 banche popolari italiane pubblicata da Il Sole 24 ore in base ai dati di bilancio al 31 dicembre 2020. In sintesi è buono il rapporto tra i prestiti non performanti, i cosiddetti crediti deteriorati, con il patrimonio netto tangibile della banca. Se quest'ultimo supera il dato dei crediti a rischio, allora la banca è solida, ovvero è in grado di far fronte all'eventuale perdita dei crediti deteriorati ed è cioè capace di coprire con le sue risorse il rischio di credito. Possiamo dire che più questo dato è basso, più la banca è solida. In sintesi è il dato che più interessa associ, clienti, investitori e stakeholder, perché è l'indice che più di qualsiasi altro rispecchia la solidità di una banca. L'affidabilità, la sua sostenibilità nel tempo. E la conferma di quanto è stato fatto dalla fondazione ad oggi. Abbiamo questo onere e questo onore di proseguire un lavoro che i miei predecessori hanno fatto brillantemente, dare solidità ad una banca di territorio a servizio del territorio. Per noi è un motivo di grande orgoglio e soddisfazione. A confermare la leadership della BPC anche la classifica dell'Atlante, delle banche leader, pubblicato annualmente da Milano Finanza e Italia Oggi, che vede la BPC al terzo posto nella classifica generale di tutte le banche del Lazio e al primo posto tra le popolari e quelle di minore dimensione della regione. Le banche popolari nascono per un'intuizione di Luigi Luzzatti, fondatore delle popolari in Italia, con lo scopo di dare mutualità, di darsi vicendevolmente mutualità tra soci e quindi fa parte del nostro DNA. Cioè sarebbe male il contrario, sarebbe strano il contrario. Noi dobbiamo fare questo perché siamo banche popolari. L'Istituto di Credito è sempre più impegnato nel sociale. A seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, sono partite le elezioni della Scuola di Italiano per i profughi che fuggono dai bombardamenti. A firmare l'iniziativa, appunto, la Banca Popolare del Castinate. Il 2021 è stato un anno difficile. Pensavamo di aver superato la fase più buia della nostra economia, quando poi la guerra invece ci ha fatto ripiombare in incubi, prima ancora che economici, ovviamente incubi derivanti dalle morti di tanti bambini, di tante persone, di tanti civili. Questo, dal nostro punto di vista, evidentemente impone una strategia sia a favore delle imprese, ma anche una streggia a favore delle popolazioni dell'Ucraina. E quindi in questo senso abbiamo avviato diverse attività sia di raccolta fondi, ma anche di accoglienza agli ucraini che vengono nella nostra città.